Ciao ragazzi, allora, veri che chiariamo questa cosa, io giro i video col telefono, non ho una videocamera per girare i video, sono proprio senza piccola per capire come si girano i video, perchè non me lo spiegano, non so perchè, mi sorrita penso che lo sappia ma non me lo vuole spiegare. Allora, spesso a me mi chiamano e si interrompe automaticamente il video, perchè io ogni giorno li faccio i video, e ogni giorno 4-5 persone mi chiamano per farmi scherzi, per vedere come sto, per diversi motivi sempre, e quindi rischio sempre di non finire il video. Come ho fatto adesso? Stavo facendo il video mentre indossavo i miei collanti, e mi chiamo mia sorella, poi mi chiamo mia madre mentre lo stavo finendo, quindi ragazzi è un casino, a me dispiace, perchè comunque ci tengo. Però scusatemi se i video non escono più in fretta, soltanto che non ho una videocamera, per cui mi devo a ragione con quello che tengo. Spero che comunque potete perdonarmi e aspettare un poco prima che riescono tutti i video, perchè ragazzi io ci sto provando, e però... No, non si può, perchè mia madre dice che non me la può comprare adesso una videocamera, che tanto che se me la compra non so come si montano, quindi mi dispiace, ma per adesso dovremmo continuare al telefono e dovremmo vedere come va avanti. Spero che mi sopportate ancora, un bacio.